Signora Presidente, un paio di note preliminari. Innanzitutto devo dire che io condivido la pena del Presidente del Consiglio, che sappiamo essere in una posizione difficilissima, vaso di coccio tra vasi di ferro. Quest'oggi è venuto a fare le sue comunicazioni prima del Consiglio europeo, accompagnato soltanto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, che in termini governativi è un po' dire non se ne abbia. Ministro Fraccare è un po' il minimo sindacale, cioè se non c'era neanche lei proprio non c'era nessuno. E dispiace un po', perché questa è l'importanza che evidentemente date all'Unione europea. D'altro canto aspettiamo da più di un mese un nuovo Ministro degli Affari europei, non vi date nessuna pena di nominarne uno, vuol dire che pensate che non ce ne sia bisogno. Poi devo dire che tutta l'Aula ha chiesto al Presidente del Consiglio di dire qualcosa di sensato su queste 49 persone, uomini, donne, 12 bambini, che sono a largo di Lampedusa. E il Presidente del Consiglio, come al solito, ha una capacità incredibile, ormai mitica direi, passerà, penso che entrerà negli annali parlamentari, di non dire niente. Cioè lui ci ha raccontato della sua visione sistemica, ci ha raccontato del Consiglio europeo di giugno, che è il Consiglio europeo dove l'Italia ha praticamente abbonato alle varie Ungherie, Romanie, Slovacchia, bambini, eccetera, il dovere di accogliere dei migranti. Lì noi abbiamo sostanzialmente sancito il principio della volontarietà e quando noi gli chiediamo cosa ha intenzione di fare per 49 persone, ora il Presidente del Consiglio ci racconta della sua visione sistemica, di quello che farà un giorno. Ma, signor Presidente, noi le avevamo chiesto cosa intende fare per quelle 49 persone, ripeto, 12 bambini che sono su una barca alla Mare Ionio a largo di Lampedusa. Come al solito, anche se i colleghi di 5 Stelle dicono che il Governo non si sottrae, il Governo si sottrae, perché non risponde. Poi dovremmo parlare a questo punto, finalmente, di questo Consiglio europeo. Ora, è un Consiglio europeo molto ampio ed è evidente che parlare di punti che so io come l'ambiente con un Governo come questo risulta difficile. Il Governo dei fanghi sversati nei campi, il Governo del condono edilizio Monstre. È il Governo del Ministro dei Trasporti che promuove le auto elettriche e si compra l'auto diesel. È il Governo dei giornalisti, dell'intelligenza che lo supporta, che vogliono mettere sotto la macchina la piccola Greta che evidentemente deve avere delle colpe molto, molto gravi. Quindi non parleremo d'ambiente. Non parleremo neanche di disinformazione, signora Presidente, perché evidentemente se il Movimento 5 Stelle e la Lega vogliono parlare di disinformazione, io comincerei per esempio dal Tg2, un telegiornale che è diventato sostanzialmente la gran cassa del Governo, una cosa che è insostenibile sul servizio pubblico. E poi le solite parole vuote. Sentiamo dire dal Presidente del Consiglio che l'Europa deve essere unita per definire le sue priorità, che non ci si può muovere in modo isolato, che ci riconosciamo in un approccio europeo, che bisogna tenere coesa l'Europa e bisogna avere unità di intenti e spirito solidale. Queste sono le parole sull'Europa che noi sentiamo in quest'Aula, poi tra il predicare e il razzolare, come al solito, c'è di mezzo il mare, volendo manipolare questi proverbi. Perché quello che succede è assolutamente il contrario. Noi abbiamo visto che cosa è successo con la Brexit. Allora, innanzitutto, qui viene il Presidente del Consiglio e non ci dice l'unica cosa che doveva dire al Parlamento, e cioè che cosa farà il Governo se la Gran Bretagna e il Regno Unito chiederanno la proroga. Un sì o un no. Non era difficile, signor Presidente del Consiglio. Cosa vuol fare? E guardi che la domanda non è peregrina. Perché i movimenti sovranisti, i movimenti amici di Nigel Farage, colui il quale fa gruppo al Parlamento europeo col Movimento 5 Stelle ed è amico di Le Pen, di Salvini, quei gruppi hanno chiesto esplicitamente all'Italia di bloccare la proroga perché ci vuole l'unanimità. Allora, la domanda è che cosa avete intenzione di fare? Voterete sì alla proroga o voterete no alla proroga? E ancora una volta il Governo viene in quest'Aula e non ci dice che cosa intende fare. Questo è il Governo che appunto non si sottrae al dibattito parlamentare. Un Governo che opera nel massimo del disaccordo al proprio interno e che nella massima parte dei casi non sa che cosa dire al Parlamento. Noi non dimenticheremo mai la macchia del Global Migration Compact sul quale la maggioranza si astiene e che lascia che siano le opposizioni a prendere la posizione di politica estera del Paese. Vuol dire che il Governo ha abdicato a una delle sue principali responsabilità. Quindi coesione, unità dell'Europa e poi che cosa succede? E poi succede una cosa come quella della Cina, nella quale noi evidentemente abbiamo fatto una cosa che non ha niente a che fare con la coesione dell'unità europea o con una posizione omogenea, perché stiamo andando completamente da soli. Ma cerchiamo di capirci. Il Presidente del Consiglio dice che non è un trattato internazionale, non è un accordo vincolante, un'intesa quadro. Non vale niente. Non vi preoccupate che tanto è un accordo che non vale niente. È una roba di principio. Allora, la domanda che viene da porre una persona, diciamo, a chiunque sia dotato di un minimo di buonsenso è «Scusi, signor Presidente, ma lei ci vuole far credere che il Presidente Xi Jinping viene da Pechino qui per firmare un accordo che non vale niente?». A me sembra abbastanza controintuitivo, per usare un termine gentile. Allora, diciamoci le cose come stanno. È vero che questo memorandum of understanding non ha nessun valore vincolante, ma quello è esattamente il problema. E cioè, se si firma un accordo che non è vincolante, cioè che non produce immediatamente un vantaggio, non produce un deal, non produce un affare tra imprese, vuol dire che il valore di quel particolare accordo è un valore esclusivamente politico. E i cinesi hanno voluto mettere una bandierina venendo a firmare un accordo che non li vincola in niente, ma a dire «uno dei Paesi del G7 è nostro». Ora, perché lo fa il Governo? Il Governo lo fa nell'attesa, come ci è stato detto, nell'attesa di poter dire ai cinesi «abbiamo firmato il memorandum of understanding, quindi dateci più business». Peccato che per fare business con i cinesi e con qualsiasi altro partner non ci sia bisogno di nessun memorandum of understanding. Se due imprese, un'impresa italiana vuole investire in Cina o un'impresa cinese vuole investire in Italia, non è necessario sposarsi tra Italia e Cina firmando un accordo di questa visibilità sul piano internazionale. Basta fare, si dice, i tedeschi esportano più di noi, ma i tedeschi esportano molto più di noi senza fare un memorandum of understanding, perché fanno gli accordi uno alla volta e non devono sposarsi con i cinesi. Tra l'altro, nel momento in cui i cinesi acquistano l'utilità che cercavano con quell'EMOIU, cioè dire che politicamente uno dei paesi del G7, perché con tutto il rispetto la nostra economia non è paragonabile né a quella greca né a quell'ungherese o agli altri paesi che hanno firmato questi EMOIU ed è chiaro il valore politico per i cinesi, i cinesi hanno già acquisito ciò che volevano, mentre la nostra utilità è un'utilità futura e sperata, ma che non è detto che si verifichi. Cioè non è detto che poiché abbiamo dato loro quello che volevano, adesso ci daranno loro quello che vogliamo noi, cioè più esportazioni e reciprocità, perché il punto con la Cina è la reciprocità. Guardate, lo dice un esponente del governo precedente che crede che fare affari con la Cina, lavorare con la Cina sia una cosa che va fatta. Aprire il mercato cinese alle nostre imprese è giusto, ma non bisogna genuflettersi ai cinesi, perché quando si fa una trattativa, se tu dai tutto prima della firma del contratto, evidentemente non avrai niente indietro. Questo è il punto. A me fa tremare le vene e i polsi pensare che il sottosegretario Geraci, il ministro Di Maio, il presidente Conte trattino per l'Italia, perché se quando si siedono a un tavolo di trattativa concedono alla controparte tutto prima della firma, vuol dire che non potrebbero neanche comprare un'auto usata. Questo è il problema. Allora, gli accordi con la Cina, il lavoro con la Cina va fatto, ma non bisogna svendersi. Se i cinesi vogliono investire nel porto di Trieste, perché è meglio far arrivare la merce a 300 chilometri, a qualche centinaio di chilometri da Monaco di Baviera, piuttosto che farla arrivare al Pireo, che con tutto il rispetto per il Pireo, è una zona non servita da infrastrutture. È chiaro che Trieste è più appealing per i cinesi. Lo vengono a trattare alle nostre condizioni, non alle loro condizioni. Questo è veramente il punto. Se no finiamo come la Grecia, che nel 2017 da sola ha bloccato una risoluzione sui diritti umani presentata dall'Unione Europea all'ONU, la Grecia misteriosamente non appoggia una risoluzione sui diritti umani in Cina, presentata all'Unione Europea. A pensare male si fa peccato, ma si indovina. La verità è che, pensiamo tutti, che i greci, data l'interessenza con la Cina al porto del Pireo, siano molto più cauti di prima a parlare di diritti umani in Cina. Io non voglio che il nostro Paese si trovi in queste condizioni, dico. E allora, concludo veramente. Avete fatto passare questo accordo come una cosa, come dire, assolutamente innocua. non lo è affatto. È il raggiungimento di uno scopo anche lodevole nel peggiore dei modi. Nel peggiore dei modi, perché avete svenduto, state svendendo, la nostra capacità di negoziare e soprattutto la nostra sovranità nazionale, che per essere un governo sovranista è davvero un paradosso.